L'Abruzzo è una delle regioni che ha fatto più vaccini anti-covid nel nostro paese. Tra l'altro da lunedì prossimo sarà possibile prenotarsi per poter far vaccinare gli over 80? Sì, la nostra regione è tra le prime sei regioni che ha dato la possibilità ai nostri sanitari di vaccinarsi e abbiamo già messo in atto, consumato il 69% di tutte le dosi consegnate. Quindi un'alta adizione, un'ottima risposta nel mondo della sanità. Sarà importante dai prossimi giorni iniziare a vaccinare le persone più fragili, appunto gli anziani, gli ospiti dell'RSA? Sì, nei prossimi giorni, ossia a partire dal 18 di gennaio, partirà la possibilità di iscriversi alla piattaforma della nostra regione, soprattutto agli over 80, a tutte le persone anziane e alle persone con fragilità. Questo è un elemento che noi abbiamo voluto aggiungere per essere particolarmente vicino alle persone che in questo momento possono correre il rischio di questi contagi. Sessore, domani ci sarà la cabina di regia. Abruzzo si presenta a questo appuntamento con un R con T a 0,89. Ci potrebbe essere il rischio di passare dalla zona gialla alla zona arancione? Allora, dobbiamo innanzitutto pensare da un punto di vista sanitario e quindi avere un RT basso che vuol dire che si sta lavorando e si sta portando avanti tutta l'attività di prevenzione. Oggi vorrei sottolinearle che noi, riguardo ai posti letto occupati, abbiamo solo, da un punto di vista di terapie intensive, il 21% e la media nazionale è del 30% e per quanto riguarda l'area medica abbiamo occupato solo il 32% e la media nazionale del 40%. Gli indicatori che noi abbiamo presentato alla cabina di regia sono buoni, diciamo, senz'altro saranno prese in analisi in maniera valida. C'è un elemento che è emerso, purtroppo, che ci sono stati dei focolai, come voi sapete, in alcune RSA in modo particolare, in alcune strutture sanitarie e senz'altro quello è un indicatore che sarà valutato. A proposito di focolai, notizia di questi giorni, di queste ore, anzi, quello che sta accadendo, che è accaduto a Pizzoferrato, lei proprio pochi minuti fa ha avuto un colloquio proprio per esaminare la situazione, insomma, cosa è emerso? Sì, abbiamo da poco terminato l'incontro, il gruppo che abbiamo istituito da parte del Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito proprio in base alla relazione che il direttore dell'Ars di Chieti proprio ieri sera ha inviato e è stato analizzato punti fondamentali per prendere in esame la possibilità di circoscrivere tutti i cittadini di Pizzoferrato, circoscrivere nel senso di dare la possibilità di poter effettuare nel breve tempo possibile uno screening di massa attraverso tamponi molecolari in modo, nei casi positivi, mettere in atto subito il tracciamento e poter, attraverso uno screening di massa esteso, evitare che ci possa essere un ulteriore contagio, un ulteriore focolaio. Quello che purtroppo emerge è un comportamento anomalo, un comportamento non adeguato nel rispettare le norme, perché la causa di questo focolaio è da evidenziare come un momento ludico, un momento di assembramento in determinate situazioni che ha creato questo grosso problema. Quindi colgo l'occasione per riportare ancora una volta l'attenzione e quindi inviare io un messaggio di rispettare tutte quelle regole, perché poi ci lamentiamo di risultati di zone gialle e arancione, ma che spesso e volentieri poi sono determinati dai nostri comportamenti. A proposito di zone, potrebbe esserci la zona rossa? A questo punto potrebbe essere istituita la zona rossa a Pizzoferrato? Verrà istituita una zona di controllo. Adesso il sindaco, che è l'esponente, diciamo il referente da un punto di vista nostro sanitario, deciderà insieme al presidente Marsiglio. Noi abbiamo inviato quelli che sono i nostri risultati in base a questo confronto, ma soprattutto quello che io voglio sottolineare è che bisogna evitare al massimo queste situazioni.